Salve cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo a Giacarta in un centro commerciale e questo tra virgolette è un angolo da sogno. È uno spazio promozionale immenso dentro un centro commerciale e qui vengono proposte delle billette in vendita. Adesso vi mostrerò delle foto, tutto viene correlato da suono, immagini suggestive, il gioco delle fontane. Mi hanno appena fatto vedere il catalogo, sono delle billette molto belle, nello stile delle isole che attornano la Malesia abbiamo uno stile abitativo tradizionale, compatibile con l'ambiente, l'utilizzo di materiali naturali. Vi faccio un po' vedere questo angolo espositivo perché è veramente sfarzoso e qui vengono solamente la gente ricca a comprare perché sono prezzi proibitivi. Comunque parliamo per una billetta di un prezzo a partire da 120.000 euro, ecco questo qui è il prezzo, l'ordine di grandezza. Abbiamo anche dei modelli che rappresentano queste billette. Questa qui è una casa vera e propria. Il giro è continuo, qui abbiamo un altro modello abitativo. Adesso così dando un'occhiata alle proporzioni sono delle billette molto compatibili con l'ambiente con grandissime vetrate per cui saranno molto luminose. Forse tutto quel vetro lì perde tanto isolamento termico. Se siete abituati ad usare il condizionatore costerà un botto. Io le avrei viste meglio, con meno luci luminose, però probabilmente saranno finestre, termi isolate, non lo so. Comunque abbiamo diversi stili abitativi, tutti molto belli. Ok ragazzi, questo è lo stand dato che vi ho un po' parlato di questi venditori qua. E ci sentiamo alla prossima. Se volete comprare una casa in Malesia fate pure, il posto è molto bello. In Indonesia scusate, anche in Malesia le billette che ho visto sono ancora più belle di quelle che ho visto qua in Indonesia.